Nel 2015 il tema era stato il confine, nel 2016 si erano invece indagate altre frontiere, quelle generazionali. Quest'anno saranno gli innovatori a salire sul palco del Ristori per l'evento realizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Verona in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti e con il supporto di una accordata di imprese capitanata da linea Ecoclima. Domenica per la terza edizione di Talks Sliding Doors si alterneranno cinque figure di eccellenze contemporanee, svariati gli ambiti di competenza dal digital alla ricerca scientifica, dall'impresa al design per passare alla musica e allo sport. Insomma un incontro a più voci che rifletterà sull'innovisione, quello sguardo che si sofferma prima sul processo e poi sulla meta. Un insieme di esperienze che portano a diverse concezioni dell'innovazione nel mondo attuale, nella società attuale. L'appuntamento che inizierà alle 17 e si concluderà alle 20 sarà impreziosito dal maestro Roberto Cacciapaglia, protagonista della scena musicale più innovativa con la sua arte, che abbraccia con lo stesso trasporto, tradizione classica e sperimentazione elettronica. Suo infatti il brano che ha addolcito il night show dell'Albero della Vita a Milano Expo 2015.